Un anno e mezzo fa, pur con la consapevolezza che andando al voto al più presto Forza Italia e il centro-destra avrebbero prevalso, noi lavorammo invece per creare le condizioni che permisero la nascita del governo guidato da Mario Draghi. Si trattò di un atto di serietà e di responsabilità verso il nostro Paese. Bisognava mettersi dalla parte degli italiani e affrontare le emergenze legate alla pandemia e alle sue conseguenze economiche e sociali. Forza Italia ha dunque sempre agito nel solco di questo imperativo superare le emergenze alle quali si sono aggiunte nel 2022 l'emergenza legata alla guerra in Ucraina e più di recente anche la siccità. Allora accettammo di formare una maggioranza con partiti antitetici alla cultura di Forza Italia per accompagnare il Paese in questo percorso difficile. La condizione essenziale, la condizione irrinunciabile era quella di mettere da parte i programmi dei singoli partiti concentrandosi unicamente sulle attuali sfide, a cominciare naturalmente dall'attuazione del piano nazionale di riprese e di sviluppo. E così abbiamo fatto giorno dopo giorno, sacrificando molte delle nostre istanze. Ma oggi il Movimento 5 Stelle, dopo un profondo logorio politico, ha deciso di disconoscere un provvedimento fondamentale per il Paese come il decreto legge aiuti e non l'ha votato alla Camera dei Deputati dopo aver dato ancora la fiducia al governo. Si tratta di un atto di schizofrenia politica e soprattutto di un vulnus grave che rende palese un deficit di responsabilità, un deficit di serietà. I 5 Stelle hanno deciso di giocare sulla pelle dell'Italia nell'illusione di ricavarne un dividendo di consensi. Davvero, devo dire che questo è un comportamento assolutamente inaccettabile. Chiediamo quindi al Presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Così come siamo stati responsabili nel far nascere il governo Draghi, altrettanto lo saremo nell'ultimo scorcio di legislatura. Ecco perché chiediamo che ci sia una verifica della maggioranza al fine di comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e tutelare gli interessi degli italiani. Grazie. Grazie.